Gentili telespettatori, buona giornata. Il centrodestra si chiede ma dov'è la prevenzione che avrebbe dovuto fare l'Emilia-Romagna? Dove sono quelle opere di contenimento, i bacini non completati? Insomma, con la nuova alluvione in Emilia-Romagna, che cosa hanno fatto in quella regione? Perché oggi dopo Bonaccini, che è andato in Europa come eurodeputato, c'è una facente funzione da presidente che ribatte, che è sciacallaggio. A parte queste parole dice la facente funzione che è stata fatta tutta la manutenzione possibile. Musumeci dice che la prevenzione è compito delle regioni, ma quei bacini laminati, quei laghi che si dovevano fare, sono stati fatti? Probabilmente no. Sono stati fatti tantissimi cantieri. Sto già vedendo delle polemiche, mi dispiace anche perché ormai è un light motive nei momenti di maggiore emergenza. Lo sciacallaggio, per quanto mi riguarda, non è ammesso, soprattutto quando ci sono territori che stanno facendo di tutto attraverso i propri sindaci e amministratori, dice la presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, che sta coordinando l'emergenza in questo momento. Si riferisce alle contestazioni che si stanno sollevando dopo maggio 2023, l'alluvione di maggio 2023, che aveva provocato centinaia di milioni di danni. La presidente facente funzione dice che tutto quello che si doveva fare è stato fatto, tutta la manutenzione possibile sui fiumi. La polemica non aiuta i cittadini, le istituzioni dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Ma ormai è da un anno e mezzo che va così. Ma la mia domanda rimane. La manutenzione sui fiumi è una cosa, ma i bacini di contenzione, quei laghi artificiali che sono anche di due chilometri per due chilometri, che vanno a contenere milioni, centinaia di milioni di metri cubi d'acqua. Dove sono? Sono stati fatti. Ai tempi di maggio 2023 pochi erano stati conclusi, la maggior parte no. Io chiedo alla facente funzione che parla di sciacallaggio. A parte lo sciacallaggio, questi bacini, questi laghi artificiali, sono stati fatti? Io non lo so, ma credo proprio di no. Riteniamo che l'intervento del commissario, il generale figliuolo, dice la facente funzione che parla di sciacallaggio, l'intervento del commissario, il generale figliuolo, stia andando avanti con grande senso di responsabilità. Dice e aggiunge Nellon Musumeci, ministro della protezione civile. Non tutto il denaro a disposizione è stato speso, e non perché non ci sia stata programmazione, ma perché dall'altra parte non sono ancora state definite richieste, procedure e pianificazione di chi per legge deve intervenire. I piani speciali sul territorio li redige il commissario, ma li realizza l'ente regione. Il governo ribadisce che il compito della prevenzione strutturale e infrastrutturale di competenza delle regioni, dice Musumeci, pur ribadendo che di non voler amplificare alcuna polemica politica, le regioni assumono una funzione da protagonista in materia di prevenzione e gestione del rischio. Lo scorso anno, a maggio 2023, sono stati i 23 fiumi esondati. Quest'anno sono di meno. L'Idice, il Segno, il Lamone, in parte Montone, Marzeno. L'innesco importante è stato registrato a Modigliana, nel fiume Marzeo, che confluisce poi a Faenza nel Lamone. Il primo ha creato alcuni allagamenti, il secondo no. Il Lamone in questo momento ha una tracimazione in corrispondenza del ponte di Boncellino a partire dalle ore due o tre di questa mattina. Sul Segno, invece, non abbiamo avuto rotture o tracimazioni oltre gli argini. A questo punto, gli interventi realizzati, dice invece il Presidente, hanno portato una maggiore resistenza dei bacini. Allagate invece le campagne di Cotignola, lì a Lugo e Bagnacavallo, ci sono i punti più significativi. Io dico bene la pulizia dei fiumi, ma i bacini di cui vi dicevo prima sono stati fatti. Lì c'erano problemi con i vincoli ambientali, i vincoli di qua, i vincoli di su, i vincoli di giù. Faccio presente che nella Regione Veneto questi bacini di contenzione, questi piccoli laghi artificiali, sono stati fatti tutti e in Veneto il rischio alluvioni è al minimo. In Emilia-Romagna sembrerebbe che questa cosa andrà a ripetersi sempre più spesso. Infatti sono delle zone allagate che corrispondono alle stesse, in alcuni casi, del maggio del 2023. Quindi piuttosto che fare lo scaricabarile, doveva essere il commissario, doveva essere la Regione, doveva essere questo, doveva essere quello, evidentemente bisogna fare qualcosa da quelle parti. Capire dove sono i punti critici e cercare di intervenire cercando di convogliare l'acqua dove è più consono. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, mezz'ora, un'ora e poi parleremo di altri argomenti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate almeno un video al giorno come questo e poi c'è anche Facebook con la pagina che si chiama Luca Vincitore dove trovate caricati questi video che potete assolutamente condividere con chi volete. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie.